La scarsità di pioggia e la presenza del forte vento di questi giorni rendono di nuovo alto il rischio di incendi boschivi. Per questo la Regione ha deciso di ripristinare il divieto assoluto di abbruciamento di vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio a partire da sabato 9 sino a domenica 24 settembre compresi. La tendenza meteo a medio termine elaborato dal Consorzio LAM dà indicazioni su un probabile innalzamento degli attuali livelli di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi in tutta la Regione a causa dell'alta pressione che determinerà ancora bassa probabilità di precipitazioni e bassi tassi di umidità. Così, sino al 24 settembre, oltre al divieto di abbruciamento dei residui vegetali, è vietata anche qualsiasi accensione di fuochi. Sono esclusi dal divieto la cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto di queste norme comporterà l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione sottolinea infine l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero di emergenza 112.